Non ci sarebbe solo l'arena per il buon Massimo Giretti, ma ci sarebbe un progetto della intera puntata di domenica su Raiolo. Raiolo 14-18, sarebbe questo il progetto che sarebbe previsto. Buoni ascolti del suo talk, l'arena Giretti e il suo gruppo di lavoro, a quello che si sarebbe apposito nel web, sarebbe stato incaricati da Raiolo di costruire anche la seconda parte del progetto domenicale che dovrebbe mantenere con un carattere molto più spettacolare e molto più leggero rispetto alla classica Raiolo. Nella seconda parte infatti non ci sarebbe più, quindi fa una parola in ergo per la quale sarebbe allo studio l'ipotesi del nuovissimo programma del sabato pomerano, un magazine di infotainment che sarebbe un po' la risposta al bellissimo di Carlo V. Appena adesso è da trattare con il condizionale dal momento che la Rai sarebbe ancora in pieno corso nella costruzione dei preinsetti autunnali, in vista del vaglio in consiglio d'amministrazione che dovrebbe avvenire entro metà giugno e poi della presentazione agli insensi pubblicitari prevista invece per il 28 di giugno. Questo sarebbe quanto, vi ringrazio per l'ascolto e il video del mio acqua, iscrivetevi, commentate, se in tali video fossero presenti per le inesattesse, mi scuso, quanto chi vi parla non è un giornalista, per tanto escludo di me eventuali responsabilità.